Quando e come riaprire in sicurezza? Sono stati valutati 7 piani vaccinali e 5 strategie di contenimento per un totale di 35 scenari. Per ogni scenario si prevedono vaccinati, nuovi casi, casi attivi, ricoveri, terapie intensive e morti. Il modello previsionale aggiorna la letalità in funzione dell'età dei soggetti già vaccinati. I morti, come ovvio, calano se si vaccina più velocemente. Ma cosa costa aprire tutto? Vaccinando veloce 50.000 morti, che salgono a 90.000 con vaccinazioni lente. Con chiusure intermittenti, invece, i morti sono meno della metà. Che fare? Chiusure intermittenti. Prima chiudi, poi apri. Close-Open costa come Open-Close, ma salva almeno 14.000 vite. Confronto tra Open-Close e Close-Open. In questo esempio, ritardare la chiusura quadruplica i morti a parità di costi economici.